È molto importante rispettare l'ambiente in queste zone e conoscere le abitudini degli animali. Adesso a me è capitato di sprofondare nella neve e di fare un buco, un solco, vero e proprio. Questo buco è molto pericoloso per i pinguini perché se ci cadessero dentro non sarebbero in grado di uscire. Quindi è importante coprirlo.